Sanità in fuga, tanti mal di pancia di cui ci occuperemo in questa puntata della pancia come sempre legati ai temi dell'attualità, argomento enorme quello della sanità toscana noi cercheremo in questa prima parte della puntata di occuparci di chi va via, di chi viene stromesso ma anche di una mozione di sfiducia che è stata firmata proprio in queste ore dai capigruppi del centro-destra in consiglio regionale nei confronti del presidente della regione Enrico Rossi parliamo della sostituzione della Monica Calamai ma anche della fuga di un primario che ha fatto molto parlare negli scorsi giorni ma non solo perché parleremo anche della riforma bloccata per il momento dell'emergenza urgenza, tutte cose che interessano naturalmente i cittadini ne parleremo con esperti e politici, alcuni sono già arrivati, ve li presento allora il professore Riccardo Vannozzi è il direttore di neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa buonasera, Enrico Sostegni consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Marcheschi collega di Fratelli d'Italia, arriverà tra pochissimo anche Andrea Quartini spesso qui alla pancia, è anche un medico dunque di questi argomenti ne sa moltissimo e da casa Matteo come si fa a parlare con noi? Potete scriverci su Twitter con hashtag la pancia oppure sul profilo Facebook di RTV38 e ancora con un messaggino Whatsapp alla 331 4303 200 Dopo come sempre lo spazio insieme al direttore Nicola Vasai al super ospite che proprio in questo giorno sarà Leonardo Basilichi, presidente di Firenze Fiera proprio nel giorno in cui è stata presentata l'83esima mostra dell'artigianato parleremo di questo, parleremo del futuro del turismo congressuale naturalmente di tutti i temi che stanno a cuore al mondo dell'imprenditoria fiorentina e toscana nel momento dell'inchiesta, l'inchiesta giornalistica che chiude i blocchi della pancia di tutti i mercoledì sera con Matteo Calì faremo un giro nelle zone rosse una settimana fa ne abbiamo parlato proprio nel dibattito politico questo provvedimento che il prefetto di Firenze Laura Lega ha preso in accordo naturalmente con il comitato per la sicurezza pubblica quindi insieme al sindaco l'allontanamento per tre mesi da alcune zone 17 vie per la precisione di Firenze di persone che si sono macchiate di alcuni reati Matteo Calì ha fatto un giro e proprio in questo giorno questo provvedimento verrà allargato perché proprio oggi il ministro dell'interno Matteo Salvini ha emanato una nuova direttiva che rafforza ancora di più il potere dei prefetti naturalmente tra le polemiche come quelle espresse dai giuristi democratici ci sarà anche un loro esponente un avvocato tra pochissimo allora vediamo l'anticipazione dell'inchiesta di Matteo Calì e poi parliamo di sanità le immagini che avete appena visto sono le scene periodiche a cui assistono cittadini e residenti del centro storico di Firenze per questo motivo il prefetto Laura Lega ha firmato un'ordinanza che disegna una zona rossa strade e vie off limits per chi ha violato la legge o le regole le 17 zone rosse di Firenze sono disposte soprattutto nel centro storico della città abbiamo fatto un giro per queste strade per due sere consecutive e a parte qualche caso isolato queste zone off limits le abbiamo trovate deserte non c'era nessuno siamo partiti da Via dei Benci uno dei cuori pulsanti della Movida Fiorentina a due passi da Santa Croce qua in effetti ci sono soltanto i soliti ragazzi che sostano sulla strada fuori dai locali nessuna situazione strana o controlli evidenti fatti pochi metri appena usciti dalla zona rossa ci imbattiamo nel disagio di circa una ventina di cittadini rom a dormire davanti all'entrata del palazzo dei congressi poi a due passi dai luoghi off limits vediamo una scena di morte lo scambio di droga e il dramma dell'eroina la preparano e se la iniettano dunque puntata ricca anche questa sera la linea va alla regia poi la sigla e cominciamo Sanità in fuga ci ha raggiunto in studio il nostro quarto ospite presente qui Andrea Quartini buonasera anche a lei e poi da incollegamento da piazza del Duomo anche un medico del 118 Giovanni Belcari buonasera a brevissimo veniamo anche da voi intanto cominciamo Sanità in fuga è come sempre i nostri titoli sono sempre un po' roboanti devono esserlo è così o è un'invenzione giornalistica un tweet per ognuno professor Vannozzi fuga non credo proprio poi penso che quando uno entra in un modello assistenziale il tweet deve durare poco però non sono tanto bravo 180 carattere ora sono un po' più lungo ora se 180 carattere dico penso di no magari uno quando entra si informa su dove va lei non ci pensa neanche un po' non ci ha mai pensato non tutti i giorni però bisognerebbe trovare qualcosa va beh glielo dico dopo col tweet più lungo allora passiamo ai politici è una sanità in fuga perché esageriamo? non è una sanità in fuga perché quando si dicono le cose vanno poi dimostrate con i numeri se si vede i numeri non sono così insomma qui c'è accanto un professionista che ha una vita che lavora se uno arriva e sta 20 giorni e va via ha valutato di non entrare non è che è in fuga è un concetto diverso comunque se dopo oltre il tweet c'è altro tempo però voglio dire quando si danno questi giudizi è bene dare anche i dati che dimostrano questi giudizi non ci sono non sono a conoscenza però c'è chi fuggia e viene stromesso perché proprio oggi ha cominciato il suo incarico un bravissimo professionista che è andato a sostituire Monica Calamai è un ruolo veramente di grande importanza e c'è stata tanta polemica il partito democratico è stato un po' contestato ora ne parlerà anche Marcheschi questa sostituzione è regolare? non c'è nessun motivo? la sostituzione è regolare ovvio è stata un po' improvvisa e ovviamente poteva anche svolgersi come modalità diverse anche rispetto alla dottoressa Calamai però mi pare che sia una procedura che è stata comunque legittima e rispetto al tema fondamentale del sistema è che nell'ultimo anno di legislatura c'è la necessità di avere maggiore stabilità questo è stato il giudizio del Presidente e a questo scelta e ne parleremo Marcheschi, oggi avete preparato una mozione? sì, una mozione di sfiducia per il Presidente Rossi perché crediamo che la sanità sia solo la goccia che fa traboccare il vaso ovviamente noi siamo insoddisfatti di tantissime altre politiche fatte dalla Giunta e dal Presidente Rossi ovviamente la sanità ha da destra molto più preoccupazioni perché è molto più importante sia per il bilancio sia perché oggettivamente nell'ultimo anno la direzione Calamai non si è migliorata ma si è peggiorata tanto che anche per rispondere alla domanda il Presidente Rossi ha fatto questo nomina d'urgenza perché altrimenti avrebbe dovuto fare un avviso pubblico quindi lui ha scritto che è d'urgenza a testimonianza del fatto che c'è un'urgenza sanità perché non si licenza in tronco un direttore generale che abbiamo acclamato non appena 12 mesi fa portandolo via chissà come mai a Careggio la motivazione data è quella che si ricorrevano notizie di un interessamento appunto del direttore generale Monica Calamai nei confronti di altri posti di lavoro un altro incarico magari non in Toscana e quindi Rossi ha detto qui abbiamo bisogno di stabilità e meglio cambiare subito questi sono gli alibi sono i pretesti per licenziare una persona che è abbastanza raro che accada invece i risultati ovviamente della dottoressa Calamai sono stati talmente insufficienti cioè fuga di medici, fuga di pazienti e quindi non ci sono risultati ed è evidente che Rossi ha messo... Quartini e poi dopo rispondete pure Quartini, in cittadino che cosa cambia se cambia il direttore generale? Perché sembra nulla invece è importantissimo o no? In questo momento può cambiare molto purtroppo perché entro il 20 di aprile in teoria doveva essere pronto il piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa perché scadono i 60 giorni previsti dal piano nazionale per le liste d'attesa e quindi chiaramente il nuovo direttore del Dipartimento dei diritti di cittadinanza e coesione sociale Carlo Tomassini si troverà questo grosso compito in questo momento e quindi può cambiare molto per i cittadini soprattutto nell'ambito proprio delle liste d'attesa certo è che questa rimozione dubbiosa anche da un punto di vista contrattuale per certi versi perché c'era un contratto comunque che la regione aveva con il direttore che è stato licenziato quindi c'è da vedere anche alcuni Il contratto che ha suscitato anche polemiche Assolutamente Perché è stato adeguato lo stipendio Sì, ci sono state delle polemiche anche su una proposta di legge che poi è stata di fatto ritirata perché sembrava che volessero aumentare gli stipendi per i dirigenti che già prendono abbastanza quindi era un po' scandalosa e sicuramente ci sono degli aspetti di equivocità straordinari tant'è vero che noi abbiamo chiesto che Rossi venga a riferire in aula perché non torna assolutamente che è semplicemente perché qualcuno si guarda intorno per cercare eventuali prospettive di lavoro possa rappresentare un vulnus rispetto alla stabilità oggettivamente non può essere così ci deve essere qualcosa di più importante Ricordiamo che c'è stata un'inchiesta che è ancora ovviamente in corso un'inchiesta che è stata denominata dai giornali Cattedropoli Cattedropoli decine e decine di intercettazioni dove emerge ma naturalmente non è nostra intenzione fare un processo qui in televisione non ce ne sono le competenze non ci sono gli strumenti non sarebbe neanche giusto però è un fatto che sono stati indagati e interdetti sicuramente è un malcostume su cui conviene davvero volevo spiegare un attimo magari a chi lo avessi perso perché qualche giorno non se ne parla più dopo l'affare Umbro direi che insomma i sospetti sono alti ecco e da queste intercettazioni emerge insomma emergono combin non vogliamo parlare addirittura di morti sospette cose che sono state anche dette però insomma combin per mettere al posto giusto la persona raccomandata eccetera perché poi in fondo il baronato dell'università non è certo una novità quindi in tutto questo Monica Calamai è indagata anche se non ha avuto nessun nessun per ora restrizione della libertà Vannozzi le voleva aggiungere qualcosa su Tom Massini sì sì volevo no no mi volevo cominciare subito trasgredendo alla faccenda di essere il tecnico perché io ho avuto siete liberi tutti sì sì avevo capito io ho avuto la fortuna di avere Carlo Tom Massini come direttore generale per dieci anni dieci e quindi vorrei dire l'aspetto del controllo e la gestione della lista d'attesa credo che sia stata affidata a un uomo che ha fatto l'open access spieghi meglio l'open access è stato fatto a Pisa da Carlo Tom Massini che cos'è? è un sistema aperto di accesso alle prestazioni è oggetto di studio questa roba quindi voglio dire a di là del fatto che è un uomo è un uomo inconsciente perché ha fatto me direttore di ripartimento ma a parte quello leggo dei neurochirurghi è normale però su quello su quell'aspetto lì direi che se la sfida attuale la sostituzione di Monica Caramai ha avuto i suoi motivi io quello non lo so ma se c'era non dava fatta e se l'argomento è gestire l'attesa si è scelto l'uomo giusto insomma bene secondo me benissimo benissimo ora poi parlo solo di chirurgia no 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 ma può parsare giuro che non è poco no no intanto mi pare molto singolare che Marcheschi che tutte le volte che prendeva parola in aula doveva per forza rimarcare come la Caramai fosse inadeguata alla guida dell'assessorato della regione toscana rappresenti una mozione di sfiducia perché il presidente revoca l'incarico al direttore che avete criticato la scelta lui ed è paradossale che di fronte alla rimozione del dirigente si presenti una mozione di sfiducia diciamo se è poco motivata la rimozione del dirigente la mozione di sfiducia mi pare ancor meno motivata rispetto si parla uno per uno oppure ci si inventa solo no 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 potete anche parlarvi a te allora comincio anch'io e quindi mi pare questo il primo elemento diciamo così di curiosità ma d'altronde fa parte della dialettica politica lo capisco però mi pare assolutamente priva di motivazione altro aspetto quando si dice chi va via in fuga gente in fuga ma si vogliano da due numeri perché io l'ho detto anche nell'altro giorno abbiamo fatto una battaglia con Andrea e anche con quella dell'opposizione perché un istituto che è l'ARS che è un istituto del consiglio regionale non andasse sotto la giunta ma rimanesse autonomo perché poi avessimo dei dati diciamo rispetto ai quali sono nominati da noi vogliamo spiegare cos'è l'ARS al cittadino anche in due parole è l'agenzia regionale di sanità diciamo è l'agenzia della regione toscana è stata appena approvata il bilancio esatto bravissima e comunque è quella che fa una serie di analisi su materie anche indicate dal consiglio regionale e dalla giunta su questioni che interessano e fa tutti gli anni un report sui dati cosa risulta perché Giacone che è questo luminare che spiego che è questo luminare che è un oncologo che aveva preso servizio qualche mese fa pochissimi mesi fa mi sembra gennaio fine gennaio ha cominciato ad avere mal di pancia e a rilasciare interviste interviste a esimi colleghi dicendo che il sistema l'organizzazione non era adatta al suo tipo di lavoro si è lamentato molto e alla fine se ne è andato in polemica anche questo è stato invece raccontato in maniera diversa problemi personali se ne è andato no è andato evidentemente in polemica ma è uno che non è entrato se il dottore Vannozzi va via che è anni che lavora nel sistema sanitario è una fuga del sistema e se va in polemica è una persona che ha mandato avanti un reparto di alta eccellenza e va via allora è giusto ma se uno arriva sta 20 giorni 24 giorni a lavorare delle due l'una qualcuno ha sbagliato però scusi io stavo dicendo un'altra cosa allora si vogliono di Giacone 1 abbiamo 55 mila dipendenti nel sistema sanitario E1 la fuga da Careggi quanti sono? Marcheschi è intervenuto in consiglio dicendo fuggi io mi sono mandato no io mi sono fatto mandare l'elenco sono 13 i professionisti che sono andati via da Careggi negli ultimi due anni a netto dei pensionati ovviamente e sono andati a per esempio Simone Vanni che è il primario del pronto soccorso di Empoli e che era un medico dell'ospedale di Careggi e fra questi 13 questi sono i numeri Careggi ha 6 mila dipendenti sul fatto che i cittadini vanno a curarsi fuori anche qui ci si possono mettere 6 mila luminari eh bravo mi ha capito posso ho capito per chiunque non sono primari non era primario quasi tutti non era un primario sono 13 però l'altro dato va detto perché dice i cittadini vanno via i cittadini vengono in Toscana a curarsi 75 mila persone da fuori regione e il saldo tra quelli che vanno fuori regione e quelli che entrano è di 34 mila persone la Toscana è la terza regione per attrazione di pazienti purtroppo l'abbiamo sempre raccontato però bisogna anche raccontare ma non è raccontato io ripeto non è un'opinione di sostegni è nel documento dell'Ars che tutti quanti a questa lista di luminari che se ne sono andati Marcheschi ho fatto un consiglio è un po' troppo lunga mi perdo tutto il tempo dell'intervento sono 13 io ne conto 18 perché lui ha raccontato gli ultimi due anni io sono andato indietro di 4 da quando c'è stata la riforma sanitaria perché la riforma sanitaria è voluta da Rossi Saccardi ha fatto dei danni perché alcuni luminari sono andati in pensione prima qual è la definizione di luminare? si può sapere qual è la definizione? luminare il primario allora questo è un suo primario uno che merita quel posto di primario per esempio è un primario o è un dirigente? perché se no è il luminario sostegni che sai benissimo che sono il fiore all'occhiello della sanità toscana che c'è per la qualità dei professori che intervengono quelli che attraggono i pazienti dalle altre regioni 13 su 6 mila lo 0,02% questi 13 sono lo 0,02% dei dipendenti di Careggio ecco quale professor Bannozzi vorrei sentire anche Saccardi proprio un minutino sì Quartini intanto che Bannozzi legge volevo concludere nel senso che questi ovviamente sono le eccellenze si parla di questi e sono quelli di Careggi noi sappiamo benissimo che ce n'è anche altri anche in altri in particolare a Careggi ma quello quello che sorprende è è vero quindi gli do ragione che vengono ancora ad operarsi per fortuna in Toscana ma sempre meno perché nelle classifiche nazionali siamo al quarto posto eravamo al primo poi al secondo al quarto quindi in questi anni c'è un'emergenza eravamo lì perché la riforma sanitaria ha prodotto degli effetti negativi siamo al terzo posto eravamo lì ma li porti questi dati in oncologia lo sai benissimo che il dottore Star americano Rossi l'ha voluto perché i pazienti si vanno a curare fuori da Careggi ma un ecco questo è la Toscana vanno a Bologna vanno tutti in Lombardia ora molti di più dagli ultimi tre anni molti di più allora Quartini e poi Vannozzi poi sentiamo Cacardi che l'ha chiamato a fare Giacchone perché gli piaceva? ecco via diciamocela tutta io credo che diciamo il dibattito su il primario mercato calcio mercato il Ronaldo di turno è veramente imbarazzante perché è imbarazzante perché quello che i cittadini vogliono è che ci sia un'eccellenza diffusa non che per caso trovi quello non Ronaldo e basta ma ci vuole una squadra è veramente imbarazzante ci vuole una squadra e quello che in qualche modo ho denunciato in consiglio regionale rispetto a questo episodio di questa persona che poi se ne è andata è che al cittadino non interessa sapere se un malato oncologico per esempio deve essere utilizzato come livello primario l'oncologia piuttosto che la radioterapia non gliene può fregare niente ed è giusto che sia così il cittadino è giusto che abbia un trattamento d'eccellenza secondo protocolli scientifici internazionali in qualunque contesto lui entri in qualunque percorso lui entri ed è scandaloso che in realtà la politica non sia stata capace attraverso le metodologie scientifiche di individuare il percorso migliore per il cittadino ci sono le tecnologie e le metodologie per studiarlo si chiama HTA è una metodologia oggettiva che serve per identificare il modello organizzativo e i protocolli diagnostico terapeutici più efficaci e più efficienti e la politica poi deve scegliere in quel modo lì viceversa quello che sta succedendo spesso nei reparti è che i politici sono tirati per la giacchetta o per il giaccone dipende da punti di vista dal barone di turno o comunque da un sistema di potere interno alle strutture e nessuno vuole cedere parte del proprio prestigio ecco la politica deve intervenire dicendo il percorso migliore è questo chi lo fa deve essere una persona capace di farlo e capace di coalizzare su di sé tutte le migliori i migliori saperi le migliori competenze professionalità che careggi ce l'ha queste professionalità attenzione perché se no si corre il rischio di sminuire e disqualificare tanti operatori che tutti i giorni con spirito di satificio con grande abnegazione lavorano e lavorano facendosi assolutamente se sì poi sentiremo anche i medici i medici del 118 vorrei lasciare spazio anche a loro per cui Pannozzi mi dica la sua riflessione è semplicissimo sono contento di sentire queste cose nel senso la fuga intanto voglio dire collega che è arrivato come si fa tutti quando arriva si informa voglio dire Giacone esatto se esiste un'organizzazione che è certificata qualificata riconosciuta tutta Europa che è l'Istituto Toscano Tumori per esempio che si muove in un certo modo puoi contribuire a migliorarlo con la tua presenza entri lavori e se dopo un certo periodo di tempo fai sì che la tua bagaglia di esperienza cultura livello intellettuale riconosciuto in tutto il mondo fa sì che migliori ancora tutti felici però naturalmente l'acrobata va bene al cerco ok benissimo chiarissimo sentiamo un minuto di Saccardi e poi proprio per correttezza Enrico Rossi ha preferito non rilasciarci un'intervista su questo sentiamo Saccardi ne ha parlato proprio questa mattina incalzata dalle domande dei giornalisti guardi noi abbiamo professionisti di grandissimo valore sia la dottoressa Calamai che il dottor Tomassini che è arrivato stamani in direzione sono professionisti di grande valore il nostro lavoro andrà avanti in continuità con il lavoro fatto dalla dottoressa Calamai che è stato un lavoro di grande pregio su tanti aspetti e il dottor Tomassini lavorerà in continuità quindi io sono contenta perché ho avuto la possibilità di lavorare con tutti i professionisti di altissimo valore che peraltro sono ancora al servizio della sanità toscana perché la dottoressa Calamai ancora rientrerà insomma al servizio della sanità toscana se non avrà altri incarichi comunque sono sicuramente professionisti di grande valore che anche le altre regioni e le altre sanità cercano e questo è un titolo di merito per la nostra sanità e quindi sono convinta che il lavoro della direzione dell'assessorata andrà avanti continuerà ad andare avanti bene come è stato fatto negli ultimi negli anni ma era necessario questo avvicinamento a suo avviso? ma il direttore generale è di scelta legittima come tutti i direttori generali dell'azienda del presidente quindi il presidente ha fatto la sua scelta l'ha spiegata e quindi va bene insomma una scelta legittima ha ribadito Saccardi io andrei subito in piazza del Duomo dove ci sono c'è il nostro ospite medico del 118 allora Giovanni Belcari abbiamo accennato prima a questa legge 25 soprattutto per quanto riguarda il sistema dell'emergenza urgenza tanto caro naturalmente a tutti i cittadini come quelli che si ricoverano naturalmente in maniera programmata all'ospedale ma l'emergenza urgenza è fondamentale l'intervento immediato allora io vorrei sapere quali sono i vostri mal di pancia voi avete avuto un incontro con l'assessore Saccardi un esito che insomma vi ha credo soddisfatti ma in parte a voi allora spiegateci che cos'è che non va innanzitutto buonasera a tutti i suoi ospiti buonasera al professor Vannozzi che è un clinico che da decenni dà lustro all'università pisana alla neurochirurgia pisana detto questo noi siamo qui come medici e infermieri per la prima volta coalizzati e condensati intorno a un documento tecnico che riassume sostanzialmente le nostre istanze attorno a quelle che a quelle che erano diciamo passate come modifiche in teoria migliorative della nuova legge 25 che è quella che disciplina i rapporti fra sostanzialmente il mondo del volontariato e il sistema sanitario della regione toscana abbiamo fatto questo documento tecnico perché tre punti sostanzialmente non ci piacevano non ci piacevano è un eufenismo perché in realtà questi tre punti potevano rappresentare un vero e proprio rischio per il paziente e per il cittadino e in più abbiamo sollevato una questione diciamo di legittimità della nostra presenza ai tavoli che legiferano su questo quali sono questi tre punti perché i tre punti sarebbero stati una riduzione del numero dei soccorritori su ambulanza dove è presente o il medico o l'infermiere da tre a due il che voleva dire che da domani mattina i pazienti anche più gravi in situazioni magari difficili da raggiungere in case al terzo piano e così via sarebbero stati soccorsi da un medico o un infermiere con solo due soccorritori dei quali uno addirittura fino a 75 anni voi capite bene che se questo fosse stato il piano e se fosse passato sarebbe stata di fatto una follia avrebbe rappresentato il servizio al cittadino per il servizio al cittadino avrebbe rappresentato un rischio evidente sotto gli occhi di tutti questo era il primo punto che abbiamo contestato il secondo punto era sostanzialmente il passaggio delle automediche che sono presenti sul territorio regionale oggi che sono circa 40 e sono quasi tutte aziendali quindi sotto il controllo delle aziende sotto il controllo dell'ingegneria clinica in cui il personale è controllato in termini di smonto in servizio rimonto in servizio turni di lavoro sanità eccetera sarebbero diventate secondo questa diciamo riforma che noi abbiamo osteggiato con tutte le forze e continueremo a farlo sarebbero diventate di proprietà delle associazioni di volontariato con un autista del mondo del volontariato questo in realtà a fronte di un costo inaccettabile ecco questo è il punto fondamentale chiedo scusa ecco vogliamo capire oggi le automediche aziendali su tutto il territorio regionale costano ammortate per anno circa 15 mila euro all'anno secondo le richieste del mondo del volontariato sarebbero potuti questi costi lievitare fino a livelli di oltre 100 mila euro all'anno per automedica capite bene ecco le chiedo solo di fermarsi qui perché vorrei si no abbia pazienza c'è un minimo di ritardo c'è un minimo di ritardo lei sente la mia voce perché è in collegamento la faccio parlare subito però questa questione da 15 mila a oltre 100 mila direi che salta all'occhio e allora vorrei intanto subito un parere dei presenti in studio cominciando da sostegni sì intanto saluto non è così ma no abbiamo anche parlato come membri della commissione con una rappresentanza c'era anche Belcari dei firmatari fatemi dire il punto dell'emergenza urgenza è che in Toscana può rispondere sui costi sui costi non li conosco non sono scritti da punta a parte ce l'ha raccontati Belcari e io ne prendo atto per quello che dice non ci sono scritti nella legge non sono scritti in nessun atto non mi pare per i contatti che ho avuto con il mondo del volontariato che neanche loro abbiano minimamente una intenzione di gestire con questa roba io la piglio come un dato e siccome dice Belcari lo prendo come un dato e lui avrà una fonte sicuramente che gli ha dato questo però è evidente che nessuna decisione che possa stare in queste cifre potrà essere presa e questo mi pare che sia assolutamente l'occhio una spesa che chiede dieci volte quella che si sostiene mi pare che non non è molto economico però ripeto non è scritta non so dove però non è scritta da nessuna parte vi prego ma no ma non è che lo metto in dubbio però dico negli atti che ci sono stati trasferiti ce l'hanno anche l'opposizione ecco da dove viene questo conto ma non è quello poi noto da dove viene Belcari questo conto allora se posso se posso dire la legge 25 è arrivata da pochissimo in commissione sanità e di fatto è stata non era come la vecchia legge 25 che tutto sommato era una buona legge si è presentata come una legge che rappresentava una cornice una cornice vuota in cui poi in sede di delibera e di successive sarebbe potuto essere inserito qualsiasi cosa ora in realtà voi dite da dove vengono queste 100 di 110 mila euro automedica allora se ne parla su tutti i giornali ormai da mesi i primi articoli che ho visto sulla nazione erano di gennaio da allora nessun membro del volontariato nessun membro della politica regionale nemmeno la Saccardi l'ha mai smentito addirittura abbiamo letto come all'indomani dell'emergere della nostra protesta diciamo addirittura il mondo del volontariato sul Corriere della Sera l'8 di marzo se non vado errato addirittura confermato tutto quello che avevamo detto noi dicendo che spingevano proprio per questa riforma allora le cose sono due o queste diciamo delibere successive da applicare alla legge 25 solo in un sacchetto erano in un cassetto pronte a essere tirate fuori e era meglio non parlarne oppure qualcuno se davvero avesse avuto interesse a smentirle avrebbe dovuto farlo noi è un mese e mezzo che siamo sulla stampa sulle televisioni e nessuno ci ha mai detto guardate che non sono queste lecce però l'assessore vi ha incontrati e ha bloccato questa cosa se mi posso permettere siete stati incontrati dalla commissione o almeno da noi siete stati incontrati dall'assessore a quanto mi risulta da tutte le parti è stato detto prima di decidere noi ragioneremo con tutti i soggetti coinvolti che sono i medici dell'emergenza urgenza le associazioni di volontariato i medici e gli infermieri ovviamente ormai sono una parte importante del sistema dell'emergenza ma perché sono lamentati loro e hanno fatto la firma guardi non è così perché noi qualsiasi legge abbiamo fatto in consiglio regionale l'abbiamo fatta Quartini che anche se è dell'opposizione può dire se è la verità o no facendo una analisi e sentendo tutti i soggetti coinvolti e quindi anche modificando norme in maniera obliata il problema scusa è della giunta perché la giunta ci ha trasmesso a noi consiglieri una legge che a quanto si apprende ora non hanno fatto loro le audizioni avrebbero dovuto fare perché se i medici e gli infermieri sono stati riaccolti ad essere ascoltati dalla giunta vuol dire che non l'avevano fatto a sufficienza prima non l'avevano neanche vista e così anche il mondo delle misericordie mi hanno scritto per essere auditi in commissione perché a detta loro non hanno avuto l'ascolto che meritavano in giunta un momento è che fossi il volontario del dipendente cioè questa cosa ci sono tantissime cose strane ma voglio ricordare che le leggi le fa il consiglio e che il consiglio lo disca alle persone mi pare sia una cosa assolutamente normale insomma no ancora non si è fatto tempo sfugit come la sanità allora Quartini intanto anch'io colgo l'occasione per salutare Belcari che non ho avuto ancora il piacere di incontrare di persona ma ci siamo sentiti più volte anche su questo tema in realtà la legge 25 ancora in commissione non è stata calendarizzata mai quindi è solo in archivio in questo momento depositata in archivio ma in commissione non è arrivata mai e sicuramente fosse arrivata in commissione la prima cosa che avrei fatto ma era pacifica come questione era proprio convocare e audire tutte le persone e tutti i portatori di interesse rispetto a questo tipo di problematica appunto dico che è pacifico proprio perché si fa sempre l'incontro che c'è stato diciamo come spesso succede non era un incontro di cui io ero informato perché la giunta spesso chiama anche i consiglieri di maggioranza ma quelli di opposizione non vengono mai chiamati quando ci sono non era un incontro con la giunta però un incontro si è fatto noi l'assessore l'ha fatto per conto io non ero neanche informato sapevo che c'era perché me l'aveva detto Belcari insomma non è rilevante stiamo sperando un sacco di notizie nuove a onor del vero però su questo voglio dire una cosa però quando io non sono invitato oggettivamente è imbarazzante che io mi faccia avanti per esserci comunque questo è un dato di fatto hanno fatto bene a protestare perché la legge 25 così come era stata concepita era una vergogna non si riesce a capire neanche quale fosse la razza se non quello di fare un qualche tipo di favore alle associazioni di volontariato e su questo si potrebbe aprire un capitolo in mezzo ma noi ci siamo ci siamo ma se sia necessario mettere le mani lo dicano anche loro allora Belcari a lei la parola che sta alzando giustamente il dito solo una cosa solo solo una cosa rapidissima io ringrazio Enrico Sostegni e la terza commissione la commissione sanità perché in effetti abbiamo avuto una sponda completamente inaspettata ma devo dire e devo ribadire un concetto molto semplice la nostra la nostra iniziativa è totalmente inedita nell'ambito almeno del 118 mai medici e infermieri come tecnici come addetti a lavori come lavoratori quotidiani sul mondo sull'ambulanza erano stati interpellati e chiamati per discutere aspetti di questa legge o comunque di tutto quello che riguarda il 118 quindi l'unica cosa che voglio dire aggiungere è questa è questa è che la sanità che cambia deve trarre slancio e avere come fine ultimo il paziente il cittadino si può fare si può cambiare la sanità senza ricorrere ai medici agli infermieri questa è la domanda la mia risposta è ovvia la nostra risposta di tutti noi è no è chiaro quindi da domani voi siete anche con la vostra inedita iniziativa siete anche riusciti a portare a casa un altro risultato perché questo lo definirei come un risultato perché naturalmente poi verrete chiamati le cose verranno perfezionate per cui diciamo che siamo tutti contenti un risultato concreto l'avete avuto perché il 2 maggio ci sarà un'automedica che avete chiesto con forza all'ospedale Serristori di Figline Valdarno è giusto? sarebbe giusto in realtà l'automedica di Figline era già addirittura di partenza qualche mese fa poi fu diciamo stoppata per motivi difficili da spiegare in poco tempo ecco e viva la gioventù e viva il divertimento la movida siamo a Firenze altronde e poi in teoria dovrebbe ripartire il 2 maggio quindi se fosse così siamo tutti felici come Pasqua visto che siamo sotto Pasqua è stato annunciato l'ho visto sulla stampa Quartini aveva detto prima e poi sostegni sì no volevo solo sottolineare che le cose si sono probabilmente mosse anche grazie a un'interrogazione che ho fatto perché chiaramente la prima questione non indifferente fu proprio il fatto che ci fu segnalato che quest'automedica non stava partendo proprio anche in virtù di un'opposizione di un'associazione di volontariato perché avrebbero preteso un anticipo della 25 mettiamola così ok e questo chiaramente era una cosa che non era sopportabile proprio perché io dico solo questo che sui 118 sull'emergenza il nodo però di fondo e su questo è anche il metodo con cui dovremo approvare gli atti e dovremo approvare è che in Toscana non funzionerà niente se noi rompiamo questa alleanza che c'è sempre stata in Toscana tra mondo dei dipendenti i medici e gli infermieri del sistema sanitario e sistema però deve costare almeno uguale guardate no no deve costare meno perché il sistema di emergenza in Toscana costa meno che nelle altre regioni costa molto meno che nelle altre regioni grazie a questa integrazione e l'unica cosa che noi dobbiamo fare con le nostre posizioni è evitare che si crei questa frattura perché questa frattura andrebbe a detrimento del sistema generale Bannozzi sì mi sembra di aver capito che questa cosa dei centomila è da vedere ancora da capire non mi sembra per niente accettata mi pareva veramente tanto vorrei dire una cosa veramente al di fuori dell'argomento centrale la famosa fuga ora negli ultimi vent'anni il nostro sistema sanitario ha fatto sì che un posto che ha 4 milioni di abitanti quindi una città medio grande europea che sarebbero il nostro paragone in realtà abbia un sistema sanitario completamente pubblico per lo più pubblico di livello internazionale e che per lungo tempo resta fra quelli italiani che sono i nostri vicini e soprattutto rispetto ai sistemi sanitari europei con i quali ci confrontiamo quindi è possibile che ci sia bisogno su certi aspetti sarei anche contento c'è bisogno di far tagliando questa cosa tanto per rimanere un po' siamo bravi ma non puliamoci però non credo che siano questi gli aspetti cioè non è il desiderio di farsi vedere del collega o l'ambizione di qualcuno di noi quello che serve è una riorganizzazione perché sono passati vent'anni e quindi qualcosina è cambiata noi abbiamo bisogno di qualche sforzo tecnologico l'HTA che diceva il collega è Health Technology Assessment cioè è tecnologia non è in realtà una cosa è tecnologia quali macchine ci sono ora che io non avevo vent'anni fa e che forse mi fanno più comodo questa è l'HTA sentiamo anche che cosa dice il pubblico che ci sta seguendo hai selezionato qualcosa Matteo sì ho selezionato precedentemente proprio il fatto dell'Umbria il caso che è scoppiato e alcuni fanno un accostamento con lo scenario toscano come Valeria che scrive dopo l'Umbria forse il caso di dare un'occhiata ad altre due regioni Pettine Lazio e Toscana Agacure su Twitter avrei detto che lo scandalo delle nomine sanità scoppiasse prima in Toscana che in Umbria ma vedo che sono messi peggio a Perugia e poi Giulio fa una domanda nominate chi vi fare basta che per le visite specialistiche diminuiscano i tempi di attesa cosa farà la regione a tal proposito? Cosa farà la regione? Marcheschi cosa fa? Fa quello che ha fatto con la sua eccellenza Rossi aveva tra parentesi Università di Firenze ha preferito non partecipare Rossi aveva chiamato il top tra i dirigenti della Toscana un anno fa la dottoressa Calamai che ha prodotto zero si è speso 11 milioni di euro per diminuire le liste d'attesa ancora dopo un anno niente promesse poco mantenute volevo ricordare che in questo sistema di eccellenza medica ma di pessima organizzazione sanitaria e di dispendio di costi pubblici noi abbiamo prodotto 17 mila pazienti in lista di attesa e di interventi questa è la sanità toscana questi sono i nodi da sciogliere ovviamente quello che si sente dire in un sistema di potere da 50 anni è sempre lo stesso che si sono creati dei meccanismi che anche se non sono corruttivi sono meccanismi sbagliati che necessitano di un tagliando perché altrimenti le eccellenze mediche vengono soffocate da burocrati che spesso rispondono più alla logica di tagliare il costo sul cerotto invece di salvare una vita umana invece la finalità del medico è quella di salvare la vita umana va bene? Ci sono anche dei problemi organizzativi aiutatemi a capire se si tratta di questo per esempio negli ospedali più periferici mi riferisco alle isole alla montagna ne abbiamo parlato anche alla pancia facendo parlare i cittadini che chiedono soprattutto che non vengano depotenziati gli ospedali la cosa curiosa è che si fugge almeno il titolo voleva ovviamente essere provocatorio dalla sanità ma si fugge anche dal posto di lavoro paradossalmente l'ospedale di Portoferraio all'isola d'Elba che deve sopportare specialmente nei periodi estivi tantissimo lavoro non riesce a trovare sei infermieri gliene mancherebbero otto non riesce a trovarne sei e dalle mie fonti vicine all'isola d'Elba e agli ambienti sanitari sarebbero cento gli infermieri che hanno rinunciato ad andare all'isola d'Elba ma non perché volevano stare comodi ma perché non è previsto che all'isola d'Elba venga dato un alloggio nei periodi estivi si paga anche 1000 euro un appartamento un bilocale a settimana quindi non c'è una struttura dell'asile idonea perché c'è un casermone dove dovrebbero tutti andare a dormire insieme e chiaramente non c'è nemmeno le infrastrutture gli spostamenti per andare in questo luogo mi spiegavano sono cose semplici ma poi il risultato è pessimo perché in quell'ospedale i turni sono massacranti e soprattutto vengono meno anche camera iperbarica la vogliamo ma non ci danno modo di formarci dobbiamo andare a Pise chi lavora al posto nostro io volevo anche sollevare questo problema non so se gli amici che sono in collegamento da Firenze su questo specifico argomento vogliono dire qualche cosa so che ci sono degli infermieri ma insomma non è che rinunciano ad andare in un posto tra l'altro bellissimo d'estate per capriccio è proprio impossibile mi risponde lei sostegni e poi sentiamo anche i medici in piazza io? a me pare che il tema sia un tema serio cioè quello in particolar modo per i medici c'è una difficoltà di reclutamento non solo per l'isola d'Elba ma per tante sedi anche quelle che possono sembrare non periferiche e per alcune specialisti per esempio l'emergenza urgenza non si trovano neanche per Cisanello Careggio non ci sono perché c'è un problema di formazione dei medici e delle specialisti e l'università che abbiamo provato a approcciare anche come regione aumentando le borse di studi ma è un problema di sistema un pochino più ampio e questo è uno degli elementi che dovrebbe essere scordinato pensate anche a questo il problema è che il tagliando dell'università non si fa a noi perché se no sarà bello e fatto l'università non è regionale voglio ricordare lo so lo so allora Quartini Pannotze è un scandalo di Firenze Quartini dopo sono accesi tutti i microfoni anche se parla piano anche questo anche questo è un argomento da gerarchia alta in termini di interesse di valore noi si paga un prezzo altissimo a un'operazione di definanziamento del servizio sanitario pubblico che negli ultimi 12-15 anni ha voluto dire grosso modo 30 miliardi in meno al Fondo Sanitario Nazionale c'era un blocco delle assunzioni finalmente si sta cominciando a intraprendere un percorso di un certo tipo per la prima volta da 15 anni a questa parte si fa un'operazione di tentativo di sblocco delle assunzioni questo governo con il ministro Giulia Grillo lo sta facendo che tra l'altro si è anche espressa un parole dure nei confronti della sanità toscana ha detto qui è una questione anche etica parlando di cattedropoli e delle nomine che presunte in quel momento lì c'era il discorso di cattedropoli si parlava di emergenza etica anche perché sui giornali come ha detto all'inizio qualcuno parlava addirittura di morti sospette c'era un primario che aveva ecco che un ministro faccia i post sugli articoli di giornale è una roba che non sta né in cielo né in terra perché se lei e io qui per fare queste traduzioni bisognerebbe informarsi capisco che la dialettica politica e il nervosismo in questo caso ti prende perché forse ti brucia l'Umbria in una maniera particolare quindi attenzione c'è un governatore che ha dato le dimissioni in Umbria per uno scandalo di questo tipo quindi per favore venga qui è venuta è venuta anche in Toscana quali sono i soldi più che sono stati messi qual è lo sblocco dell'assunzione che è stato fatto c'è uno sblocco in più l'anno finché c'era il governo centrosinistra era un definanziamento ora che c'è il governo di Cinque Stelle il governo in più l'anno centrosinistra non l'ha mai messo non l'ha mai messo non l'ha mai messo c'è sempre stato un miliardo in più che è sufficiente c'è sempre stato il gioco delle tre carte e Renzi era era straordinario perché la città gli è uguale assolutamente no dopo dopo otto mesi di governo finalmente si riesce a superare il blocco delle assunzioni perché i governi precedenti tutti quanti da Monti fino a Letta Gentiloni e lo stesso Renzi hanno stabilito che il costo per il personale sanitario non poteva superare quanto si spendeva nel 2001 meno l'1,4% questo aspetto è stato eliminato nell'ultima legge di bilancio a livello strano è stato eliminato ma dove è stato eliminato anche se si bloccano le assunzioni la gente non va a lavorare e c'è una stima che va attenzione è così è stato eliminato uno alla volta informati stiamo scorando quindi fate veloce siamo sul bilancio dell'anno scorso più l'1,5% quindi è stata abrogata quella norma per la prima volta con una stima di una possibilità di assunzioni è stata cambiata ma non è stata eliminata non è stata eliminata l'assunzione o fammi finire per favore con una stima di possibilità di assunzioni di 41.000 medici è stato investito di più nel contesto della specialistica è stato investito di più nel contesto della formazione di medicina generale e è stato investito anche nel contesto della possibilità di consentire agli ultimi anni della specializzazione la possibilità dei medici di essere strutturati è una piccola rivoluzione in otto mesi non è che si poteva pretendere molto di più questo è un dato di fatto sicuramente è stata fatta un'operazione drammatica anche da questa regione nei confronti delle zone periferiche non riconoscendo lo status di zone disagiate a varie aree e chiaramente quando si spopolano la gente non ci vuole andare nei posti dove non trovi più il banco ma il trasporto pubblico locale non c'è anche un bus per tornare a casa ma guardi è finita la trasmissione da 3 minuti e 15 per cui io vi chiedo la trasmissione non la trasmissione la prima parte della trasmissione la nostra parte Matteo da casa ha qualche spunto interessante per pensarci e per la prossima vi lascerei con questo pensiero di Giacomo che in un tweet ha scritto la sanità toscana nonostante alcune lacune ha importanti centri di eccellenza bisogna ricordarcelo allora io saluto devo salutare purtroppo vi devo salutare però quello è in nodo cioè questa roba lì la stima dei cittadini e la credibilità nei confronti del sistema sanitario è l'elemento fondamentale e l'investimento in personale smettete di distruggerla questi per prendere tre voti fanno di tutto per dare discredito quello che dobbiamo fare è incentivare ancora di più i professionisti come il dottore che sono da anni in questo sistema e introdurre nuovi professionisti nel sistema sanitario Beccari una domanda una risposta proprio secca com'è concepibile che si fugga si è studiato per fare l'infermiere eccetera eccetera non ci siano la possibilità di andare dove davvero c'è bisogno allora la domanda in realtà richiederebbe almeno due puntate per essere bene allora la prendiamo dico un'altra cosa no no dico una cosa in dieci secondi velocissima un'urgenza assoluta sul territorio regionale di oggi è uniformare l'offerta che il sistema sanitario della Toscana dà al cittadino non è possibile che ci siano aree come Livorno diverse da Pisa diverse da Firenze in cui non abbiamo gli stessi farmaci non abbiamo gli stessi le stesse protocolli a volte non abbiamo gli stessi monitor defibrillatori o addirittura non abbiamo ad esempio ecografi come nella zona Pisa-Livorno questa è un'urgenza il cittadino di Pisa-Livorno è lo stesso cittadino di Firenze grazie grazie davvero per essere stati con noi non avete preso freddo perché vedo che siete anche sbracciati la temperatura finalmente primaverile facciamo chiudere al professor Vannozzi 30 secondi interessante la formazione dei professionisti ora c'è carenza di medici in certe aree il problema non è anticiparne la schiusa come se fossero uova io ho lavorato al terzo anno di specializzazione in cima alla montagna anche io ecco però voglio dire forse a me è stato bene però che il giovane lo specializzando al secondo anno possa fare il lavoro dello specialista non al secondo semmai all'ultimo anno è uno dei sistemi abbiamo altri ospiti che adesso devono parlare d'altro grazie grazie mille voi restate qui con noi perché la linea va alla regia e poi c'è il super ospite Leonardo Balsili che parleremo della nuovissima mostra dell'artigianato è cambiato il concetto è cambiato tutto gli domanderemo anche altre cose insieme a Nicola Vasai linea alla regia tra pochissimo grazie mille grazie mille